I carabinieri del nucleo operativo ecologico hanno scoperto un'area all'interno del cimitero trasformata in discarica nella quale venivano bruciate parti in legno delle bare, denunciato l'amministratore unico della società in house. Sulla raccolta dei rifiuti al porto Forza Italia torna all'attacco e Ryu conferma che spetta al comune il ritiro allo smaltimento, l'assessore smetta di nascondere alla testa sotto la sabbia. Con uno spettacolo in programma domani sera al cinema Miramare la band di Pirati presenterà il suo primo album, nel nostro telegiornale l'intervista con il gruppo. Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con il telegiornale di Alghero su Catalan TV, un'apertura come avete visto anche dai nostri titoli, il blitz dei carabinieri del nucleo operativo ecologico di Sassari al cimitero di Alghero. Sono stati posti i sigilli in un'area nella quale venivano smaltite parti in legno di alcune bare e altri rifiuti. Scattata la denuncia inoltre nei confronti dell'amministratore unico della società in house. Una normale attività di controllo rischia di mettere nei guai l'amministratore unico della società Alghero in house. I carabinieri del nucleo operativo ecologico di Sassari, come già fatto anche in altri cimiteri, hanno effettuato nei giorni scorsi un sovralluogo nel campo santo di Alghero. Gli uomini guidati dal comandante Umberto Rivetti a loro arrivo hanno trovato un piccolo rogo appiccato in un'area cimiteriale. Le parti in legno di alcune bare erano state date alle fiamme, ma nell'area di circa 500 metri quadrati sequestrata, i carabinieri del Noe hanno trovato anche altri oggetti in disuso, alcuni dei quali in metallo e in zinco, probabilmente pezzi provenienti da esumazioni e distumulazioni. Una piccola discarica, insomma, a pochi passi dal luogo sacro, imbarba alle norme e alle regolari procedure per lo smaltimento dei rifiuti. C'è da segnalare tra l'altro che a loro arrivo i carabinieri non hanno trovato nessuno che sorvegliasse il rogo. Il pesante faldone ora è in procura. L'amministratore unico della società in house, che si occupa di servizi cimiteriali per conto del comune, è stato denunciato a piedi libero e le indagini dovranno far luce sulla vicenda, in particolare se qualcuno abbia autorizzato l'operazione illegale di smaltimento, ma anche chi l'ha eseguita materialmente. E tra i primi a commentare il blitz nel cimitero di Alghero, il consigliere comunale di Forza Italia, Michele Paes, che già più volte in passato aveva denunciato le condizioni del Campo Santo. Sentiamo le sue parole. Consigliere Paes, da tanto tempo si parla delle condizioni in cui versa il cimitero cittadino. Nell'ultime ore ci sono stati dei risvolti. Lei era intervenuto per segnalare la condizione ancora una volta? Sì, io sono intervenuto più volte per segnalare lo stato di completo abbandono in cui si trova il cimitero di Alghero. È una situazione indecente, è lo specchio purtroppo di una città abbandonata a se stessa e purtroppo ancora una volta vediamo che devono intervenire altri soggetti statali, in questo caso i carabinieri, per fare ciò che l'amministrazione non fa, cioè per curarsi di un problema che è sotto gli occhi di tutti. Noi l'abbiamo segnalato, come dicevo, più volte. Peraltro c'è una situazione anche delicata per quanto riguarda le tumulazioni e le stumulazioni delle bare. C'è il personale che ormai è in costante stato di agitazione, insomma una situazione che io ho definito assolutamente esplosiva. E i fatti di cronaca recenti dimostrano che è esattamente così. E ora cambiamo argomento, nuovo capitolo della battaglia legale tra Umberto Borlotti e la Sogeal. L'ex direttore del generale della società di gestione, licenziato dal Consiglio di amministrazione e reintegrato dal Tribunale di Sassari in tre occasioni tuttora al libro paga con un contratto da figura di vertice, ha deciso di denunciare la Sogeal per mobbing, per l'ingiustificato demanzionamento e per tutti i danni che ne sono derivati in termini di opportunità professionali, di immagine e di discredito personale. Tra le carte presentate dai legali di Borlotti ci sarebbero anche alcune intercettazioni degli uomini del nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza che spiegherebbero le ragioni politiche del suo licenziamento e del successivo accantonamento. E ora facciamo una prima pausa per la pubblicità. E ritorniamo ancora una volta a parlare della questione di fiuti nel porto di Alghero. Dopo un primo botta e risposta tra Forza Italia e in particolare il consigliere regionale Marco Tedde e l'assessore Cacciotto, gli azzurri sottolineano ancora una volta che la regione ha confermato che la competenza per la raccolta è del comune di Alghero e invita l'assessore a smettere di nascondere la testa sotto la sabbia. Secondo una nota a firma di Forza Italia Alghero assume connotati sempre più bizzarri il rimpallo di responsabilità fra l'assessore regionale Rio e l'amministrazione algherese sull'oramai annosa questione delle competenze sul servizio di pulizia e raccolta rifiuti nell'area portuale. Ci auguriamo che ci sia lo zampino di un ghostwriter nella nota diffusa nei giorni scorsi dall'amministrazione a firma del vicesindaco Cacciotto, ossia di colui, scrivono da Forza Italia, che da quattro anni gestisce, dapprima come presidente della commissione consigliare e poi da assessore competente, il settore ambiente e il bando per la raccolta di rifiuti urbani. La risposta dell'assessore a Rio all'interrogazione di Marco Tedde e del gruppo di Forza Italia, pur infarcita di lessico burocratese, è chiara. Spetta al comune il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti nel porto di Alghero, sottolineano gli azzurri. E questo senza se e senza ma, ma l'aggiornamento del piano di gestione dietro il quale l'assessore si nasconde è una cosa, la necessità di garantire il servizio e chi debba garantirlo è un'altra. Ed invece, come già lo scorso anno, assistiamo al solito indecoroso e stantio esercizio di scarica barile. Purtroppo abbiamo ancora davanti agli occhi la situazione del 2015, con il porto di Alghero trasformato in un imbarazzante discarica a cielo aperto e costellato di cassonetti nauseabondi. Sveglia Sindaco Brune e Assessore Cacciotto, proseguono da Forza Italia. È giunta l'ora di prendere in mano la situazione e non di rischiare un'ennesima brutta figura che sarebbe avvilente per l'intera città di Alghero. Cerchino di non mistificare la situazione, scelgano meglio i loro consiglieri e si ricordino del ruolo che rivestono. Smettano di prendere cantonate ed evitano di creare, anche all'interno dell'amministrazione, ulteriori equivoci. Come quando sul finire della sua nota, l'assessore Cacciotto pone dubbi sul fatto che l'amministrazione che dirigono chiede erroneamente agli operatori del porto il pagamento della Tasi. Resistano una volta tanto alla smania compulsiva di aprire bocca, proseguono da Forza Italia, solo per dare aria ai denti. È tempo di agire. Faticosamente, dopo una gestazione confusa di quattro anni, si è proceduto all'affidamento del nuovo servizio di raccolta dei rifiuti. Ora auspicchiamo uno scatto di reni che consenta di rendere efficiente il servizio, prevedendo che anche il porto di Alghero, primo biglietto da visita di questa città, si presenti in condizioni decorose. La prossima estate chiudono da Forza Italia. E dopo l'intervento dei comitati di Borgata, di cui vi abbiamo riferito ieri, riguardo il piano di valorizzazione dell'agro di Alghero, arriva a stretto giro di posta a Sant'Anna la precisazione sulla norma urbanistica in vigore per l'agro. Il sindaco Bruno dice all'assessore regionale Eriu, si percorrano altre strade che garantiscano la possibilità a tutti gli imprenditori e cittadini dell'agro di Alghero di concorrere ai finanziamenti europei sulle aree rurali. Non essendo possibile procedere all'approvazione del piano di valorizzazione dell'agro di Alghero al di fuori dal PUC, si percorrano altre strade che garantiscano la possibilità a tutti gli imprenditori e cittadini dell'agro di Alghero di concorrere ai finanziamenti europei sulle aree rurali. L'occasione data dall'Europa, col nuovo PSR ormai alle porte, è imperdibile e potrà contribuire al rilancio del lago alimentare, incentivando l'impresa sostenibile e il turismo. Lo dice il sindaco Mario Bruno, che già da tempo ha posto il problema all'attenzione dell'assessorato all'urbanistica e gli enti locali della regione, con cui è in corso una stretta interlocuzione. Tecnicamente, infatti, la possibilità di stralcio dal PUC e approvazione del piano di conservazione e valorizzazione della bonifica storica algerese è attualmente giuridicamente impossibile, in quanto non contemplata dalla regione. Con la legge regionale del 23 aprile 2015, numero 8 all'articolo 44, infatti, si abrogano gli articoli della precedente legge regionale, la numero 4 del 2009, che normavano la possibilità di sottoporre all'assessorato regionale competente la valutazione di compatibilità paesaggistica obbligatoria e preliminare all'approvazione del piano di valorizzazione. Per cui, dopo tale data, non è più possibile procedere senza che sia promulgata una nuova legge regionale, che istituisca gli articoli abrogati o contemple un nuovo iter necessario per indire una conferenza di servizi da parte del Comune, indispensabile per approvare il piano di valorizzazione stesso e trasmetterlo all'assessorato regionale per la preliminare valutazione sulla compatibilità paesaggistica. Parallelamente, conclude il Sindaco Bruno, prosegue il lavoro di elaborazione e approvazione del piano urbanistico comunale e si attivano tutte le procedure perché finalmente si arrivi in tempi certi a dotare la città di Alghero del nuovo strumento urbanistico e le borgate del loro piano di valorizzazione. Sarà la banda Bardot a esibirsi lunedì 28 marzo, il giorno di Pasquetta, in piazza Sulis. Ad annunciarlo è stato Gabriele Esposito, assessore al turismo e alla cultura, sul proprio profilo Facebook. Il gruppo fiorentino di rock e folk, principalmente acustico, formatosi nel 1993, torna di fatto ad Alghero dopo alcuni concerti, in particolare quelli del 2004 e del 2011 all'Anfiteatro di Maria Pia. Nel 2014 è uscito il loro ultimo album intitolato L'improbabile, mentre nell'ultimo capodanno si sono esibiti a Ragusa. Improbabile che il concerto algherese di Pasquetta si tenga in serata alle 21 e non nel pomeriggio, come è avvenuto in passato in occasione di altri concerti di Pasquetta, anche se in tal senso si attendono conferme ufficiali dal Comune. E ora facciamo un altro break. E ad Alghero una vincita del Super Enalotto con un 5 da 37 mila Euro. La Dea Bendata si è fermata così ancora una volta nella nostra città, in particolare nel tabacchino Pisano Marcella in via 20 settembre 201. Sabato scorso un fortunato cliente ha giocato al Super Enalotto ed è riuscito a fare un 5 da 37 mila Euro con una schedina di appena 4,50 Euro. Tra Super Enalotto e Gratevinci le apparizioni della Dea Bendata nel tabacchino e in città si ripetono, quasi da voler dare una mano ai cittadini in un momento come quello attuale. Complimenti allora anche al vincitore. E domani invece, mercoledì 24 febbraio, al Cinema Miramare alle ore 20 e 30, il programma la presentazione del primo album inedito dei Pirati. Uno spettacolo dal titolo, se vogliamo, misterioso ed esotico, The Night of the Love. In questa serata sono previste molte sorprese musicali e umane, così fanno sapere i ragazzi della band. Sentiamo proprio l'intervista realizzata con loro dalla nostra Doloressera. In visita oggi a CatalanTV una band di Alghero, ovvero i Pirati formati da Danilo Luzzoni, Angelo Salaris e Antonio Fortunato. Siete qui perché mercoledì, questo mercoledì per voi è previsto un appuntamento molto importante, ovvero è la presentazione al Cinema Miramare del vostro ultimo lavoro. Ce ne vuoi parlare? Sì, devo tenerlo io? No, lo tengo. Ok, quella già prima figura magra è già stata consumata. Nel nostro lavoro in studio si chiama Odoralo, siamo lieti di presentare questo nostro lavoro alla cittadinanza algherese. Diciamo che siamo abbastanza emozionati perché è il nostro ultimo lavoro, ma è anche il primo in realtà, se vogliamo dirla tutta. Quindi cerchiamo di tenere alte le aspettative, cercare di proporre lo spettacolo musicale e scenico nel miglior modo possibile. Allora, parla nello specifico, visto che sei il loro portavoce selezionato ovviamente non volontario, dobbiamo dirlo, anche ai telespettatori, sei stato obbligato. Parliamo nello specifico di questo lavoro. Quanto tempo avete impiegato, quanti brani sono, di cosa parla? Allora, il disco è composto da sette tracce inedite, tutte inedite, con qualche citazione quella, ma per lo più inedite. Abbiamo impiegato circa un anno tra una cosa e l'altra per riuscire a partorire questo lavoro discografico. È tutto autoprodotto, ci teniamo a farlo notare. Non lo so, vediamo un po' se riuscirà a tenere, appunto come precedentemente ha annunciato, le aspettative alte del nostro pubblico. Parliamo appunto del pubblico, però del pubblico di Alghero, perché voi fate un sacco di serate qui nella vostra città. Come risponde il pubblico al vostro prodotto, al vostro prodotto musicale, quindi alle vostre proposte? Relativamente bene, solitamente sono abbastanza divertiti dal nostro spettacolo che si propone sicuramente in veste di spettacolo, come poterlo definire, sicuramente non serio. Noi non siamo persone che si prendono assolutamente sul serio, come chiunque sarà passato in questi giorni davanti al Cinema Miramare, che è il luogo in cui sarà presentato, avrà visto la locandina dello spettacolo che ritrae un personaggio ben noto della band, il cui presente è il nostro bassista Angelo, in veli poco, 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 poco coprenti, che dovrebbe rappresentare appunto in toto quello che è un po' il nostro spettacolo, cioè il non prenderci sul serio a cercare di coinvolgere il pubblico per divertirsi insieme a noi. Allora, coinvolgiamo il pubblico, invitatelo, quindi orari, data di nuovo, mercoledì? Mercoledì 24 febbraio al Cinema Miramare, alle 8 e mezza avrà luogo il tutto, venite pronti e preparati soprattutto psicologicamente a quello che vedrete e sentirete. Un componente della band non è qui presente perché per mancanza di fondi sta già lavorando per noi allestendo il palco al cinema, sta lavorando extra per riuscire a fare in modo che il tutto sia preparato e pronto. E allora, vedremo questo spettacolo in programma domani al Cinema Miramare, ovviamente, invece noi come ogni martedì vediamo come sono andate le cose per le nostre squadre di basket, è sfiorato l'unplane di vittorie, visto che la Mercedes e la formazione femminile della pallacanestro all'era hanno vinto, mentre i ragazzi purtroppo hanno perso gli appena due punti. Obiettivo playoff centrato per la Mercedes, che ora, nelle ultime due partite della fase orologio di Serie B, proverà a chiudere al secondo posto per garantirsi l'eventuale bella in casa. Con il primo posto ormai in cassaforte per Nulvi, che sarà proprio la prossima avversaria delle Biancazzurre, la squadra di Manuela Monticelli probabilmente dovrà giocarsi la seconda piazza con l'Antoniano Unquartu. Sabato, contro un'altra diretta concorrente, il Sant'Orsola è arrivato il tredicesimo successo stagionale, 73-54 è partita che sostanzialmente non è mai stata in discussione, con gli agheresi brave a costruire da subito un bel divario. Ora, ultime due partite della fase a orologio, poi via i playoff, con la società che è alla ricerca di uno sponsor anche per affrontare successivamente gli eventuali spareggi nazionali ai quali accedono le due finaliste. È iniziata a questo fine settimana invece la fase a orologio nel campionato di Serie C femminile. Ottimo l'esordio della palla Canestro Alguero, che nonostante le assenze ha vinto sul parquet dell'Olimpia Cagliari, 45-43. Partita equilibrata e combattuta per tre quarti, poi negli ultimi dieci minuti, grazie a una buona difesa e ad efficaci scelte in attacco, la squadra allenata da Giuliano Cosseddu è riuscita a spuntarla. Ora per gli agheresi due impegni casalinghi importanti in chiave playoff, il primo questo sabato contro San Leone Uta. Ha perso per soli due punti invece la formazione maschile di coach Brembilla, 61-59 sul parquet del basket Uri e tanta amarezza perché un successo avrebbe permesso di agganciare in classifica gli avversari. Sabato pomeriggio al Palamanchia arriva l'Olimpia Olbia. E ora un altro break pubblicitario, a tra poco con l'ultima parte del nostro telegiornale. E' sempre per lo sport, quindi ancora lo sport in quest'ultima parte del nostro telegiornale. Domenica mattina il Palamanchia ha ospitato un importante stage di karate organizzato dalla SD Valverde del presidente Costantino Marcias che ha visto giungere ad Alghero tanti atleti da tutta la Sardegna che hanno potuto lavorare insieme al tecnico della federazione VUCA Ciro Valore sotto gli occhi del presidente World United Karate Association Luigi Aschedamini. Li abbiamo intervistati. Mi chiamo Aschedamini e sono il presidente della World United Karate Do Association. E' una federazione di karate e di discipline associate che svolge il suo lavoro sul campo nazionale ed internazionale. Perché ho detto questo? Per sottolineare il piacere che ho avuto e veramente l'entusiasmo che porta una giornata come questa perché per la prima volta questo rappresenta il primo momento di VUCA Pass e il VUCA Pass è uno stage di aggiornamento e di aggiornamento tecnico e di ritrovo dei partecipanti dedicato esclusivamente alla Sardegna. Quindi si chiama VUCA Pass Sardegna e è la parte più importante perché era un pensiero che avevo già dall'anno scorso e che siamo riusciti a realizzare. Questa realizzazione è stata possibile grazie al gruppo dei maestri che abbiamo in VUCA e qui parlo del commissario straordinario il maestro Ignazio De Martis, parlo del maestro Alberto Soggia che compone la VUCA Sardegna e componente sempre della VUCA Sardegna e il padrone di casa e lo ringrazio particolarmente è il maestro Maurizio Gobino che è il direttore tecnico di una società VUCA che sta molto a cuore che è la Valverde Alghero e quindi io così direi sono, posso dire solo che sono contento innanzitutto quando c'è da venire dalla pianura padana in terra sarda è chiaro che uno ci viene sempre volentieri perché noi più che nebbia in questo momento non abbiamo e quindi vengo a vedere una terra che amo moltissimo e che ho frequentato per parecchi anni e quindi però ho unito le due cose e trovo adesso un gruppo di amici di cinture nere che in parte conoscevo già, che in parte ho conosciuto oggi perché sono delle, non dico le ultime leve, ma le leve differenti dalle nostre e colgo l'occasione anche per salutare tanti amici sardi, maestri storici che in questo momento non hanno potuto essere ma che sono stati compagni di allenamento per me, quindi la Sardegna ha sempre avuto una grandissima tradizione di karate e una grande qualità, quindi un saluto, un augurio e entusiasmo con la VUCA. Buongiorno, sono Ciro Varone, sono il direttore tecnico della federazione VUCA e mi trovo qui ad Alghero per uno stage di karate. È la prima volta che la nostra federazione organizza è uno stage di questa portata. Sono molto contento di essere qui per il numero dei partecipanti, per l'adesione che c'è stata e anche per la diffusione che la nostra federazione sta avendo sull'isola. E anche per oggi è tutto, ora come sempre, spazio e le previsioni del tempo per domani. Grazie per essere stati con noi e arrivederci.